Buon pomeriggio, ben trovati in diretta dagli studi di Telebari. Prima di tutti i nostri servizi, una notizia di cronaca dell'ultima ora. Il capannone di un'azienda di solventi nella zona industriale di Bari. Come vedete nelle immagini sta andando a fuoco la nube nera e visibile in tutta la città e persino in provincia. Sul posto sono in azione cinque squadre dei vigili del fuoco. Naturalmente noi vi aggiorneremo nel corso del nostro telegiornale. Restiamo sulla cronaca. Estorsioni con metodo mafioso smantellato dai carabinieri. Un sodalizio che operava tra i quartieri Sampio, ma anche a Santo Spirito e a Palese, 12 gli arresti eseguiti in tutta Italia. Vediamo. Estorsione continuata in concorso, aggravata dal metodo mafioso e l'accusa di cui dovranno rispondere le 12 persone arrestate all'alba di oggi dai carabinieri ritenute vicini all'articolazione del clan Striciuglio, che detenevano il controllo del quartiere Sampio, di Santo Spirito e Palese. Il sodalizio facente capo a Saverio Faccilongo, detto Benzina, imponeva la sua egemonia praticando estorsioni, in particolare nei confronti di un carrozziere al quale veniva imposto di sistemare le auto gratuitamente dopo aver ottenuto mano d'opera, anziché pagare gli appartenenti al clan, dopo qualche giorno ritornavano lamentandosi della scarsa qualità dei lavori, pretendendo addirittura la consegna di soldi. Già a febbraio scorso i carabinieri del comando provinciale di Bari avevano arrestato due persone in flagranza di reato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto un terzo indagato. Le indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia hanno poi permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati, sottoposti oggi alle misure cautelari, 12 di cui 7 già detenuti per altri motivi. Gli arrestati facevano leva sulla forza intimidatrice dell'appartenenza al clan e anche sulla condizione di assoggettamento della popolazione. L'invito degli inquirenti è a non esitare a denunciare estorsioni di ogni tipo. La denuncia è un elemento necessario perché chi denuncia deve sapere che non solo verrà protetto ma avrà risposta immediata e che soprattutto noi faremo tutte le indagini per le quali poi non sarà necessario, se vogliamo, sentire di nuovo la sua denuncia perché avremo acquisito elementi probatori che vengono da auto. La mia amarezza è nella constatazione che le denunce sono pochissime o quasi inesistenti quando invece il fenomeno è palesemente diffuso e nell'ambito di queste attività investigative è emerso che gli stessi protagonisti parlavano di altre estorsioni, parlavano di altri soldi che percepivano da altri commercianti. Ma noi non abbiamo traccia di tutto questo. Adesso restiamo sulla cronaca con le notizie dal nostro sito www.telebari.it Lo facciamo con la nostra redazione social dove c'è per noi Italo Cinquepalmi. Buongiorno Cristina, allora risveglio amaro questa mattina per animatori sportivi e frequentatori del Summer Fun, campo estivo di Santo Spirito, inottata al campo Wonderful in cui si organizzano le attività estive, hanno fatto visita ai ladri, scrivono gli organizzatori della SCD Europa, le telecamere di sicurezza sono state distrutte ma ancora più grave, il furto del nuovo canestro da basket nel campo destinato ai ragazzi, i colpevoli e quanto pare sono stati comunque ripresi dai sistemi di videosorveglianza. E andiamo avanti, sta suscitando molte reazioni, il post pubblicato da Dante Marmone, attore e fondatore dell'anonima GR, che ha raccontato quanto accaduto nel centro storico di Bari attraverso social network e raccogliendo decine di commenti di solidarietà, ho subito una violenza da giovani offuscati dalla loro ignoranza, scrive Marmone, alla mia giusta reazione per una prepotenza subita, sono stato circondato da loro che mi hanno minacciato di massacrarmi la prossima volta che passo da lì. E bella Bari Vecchia conclude con le sue tradizioni. E chiudiamo, l'Università degli Studi di Bari Aldomoro si è fatta promotrice del primo dottorato di interesse nazionale in Gender Studies, un percorso che mira a formare esperti altamente qualificati nel campo degli studi di genere, studi che si concentrano sull'analisi interdisciplinare delle dinamiche di potere basate sul genere e sull'orientamento sessuale, spiega l'Università, che condizionano i processi di formazione delle identità sociali, generando dinamiche di discriminazione. Bene, con questo è tutto per oggi, a te buona giornata. Grazie Italo 5 Palmi, andiamo avanti con i nostri servizi, come utilizzare i fondi del PNRR, il tema al centro del convegno organizzato da Willa Puglia, l'Hotel Parco dei Principi. Ce ne parla Letizia Giostra. Ripartiamo dal sud per unire il paese, questo lo slogan scelto per la rassegna, la Willa si confronta, che si è conclusa oggi con un dibattito sul come utilizzare i fondi del PNRR per colmare i divari tra il nord e il sud, partendo proprio dal mezzogiorno, ridurre i divari territoriali, di genere e generazionali, sono per Willa gli obiettivi da raggiungere per un futuro costruito sulla competitività, l'emancipazione e la digitalizzazione. Uno dei temi su cui è stata data gran voce durante il dialogo a testa segretaria è stato su come rendere il lavoro sempre più di qualità e per offrire maggiore formazione, un'occasione per regalare al Meridione quel futuro tanto sperato, tradotto in maggiori opportunità lavorative in una terra accessibile a tutti. PNRR ha un grande obiettivo, quello di ridurre le differenze territoriali, di genere e generazionali e in particolare per quanto riguarda il territorio il 40% delle risorse, 86 miliardi, vengono stanziati per il mezzogiorno. È un'occasione straordinaria da non perdere, è ovviamente un'occasione sulla quale come Willa abbiamo voluto mettere l'accento. Come Willa per tentare innanzitutto di favorire il lavoro dei giovani, l'associazione dell'autorità anticorruzione prevede addirittura che negli appalti pubblici utilizzando le risorse del PNRR ci sia stato il 69% delle richieste di deroga, la normativa che prevede che il 30% degli appalti debbano essere utilizzati utilizzando gli Anter 36 e le donne. Questo secondo noi è una discrasia che va colmata assolutamente, quindi il governo deve intervenire perché se vogliamo sviluppare il lavoro, creare nuova occupazione, nuove professionalità, nuove competenze, dobbiamo partire sicuramente dai giovani e dalle donne. C'è l'impegno dell'amministrazione comunale e anche della multiservizi sulla spiaggia di Pane e Pomodoro dove sono stati attivati nuovi servizi. Ce ne parla Francesco Ventrella. Con l'arrivo del bel tempo è ufficialmente partita la stagione balneare a Pane e Pomodoro. Dallo scorso weekend è stato infatti attivato il servizio gratuito di custodia degli oggetti di valore. Messo a disposizione dal comune gestito dalla multiservizi è disponibile dalle 8 alle 18 per tutti i giorni della settimana. Un servizio particolarmente apprezzato a seguito dei numerosi furti. Sono state anche attivate le due postazioni bagnino. Le opinioni però dei bagnanti sullo stato della spiaggia sono discordanti. È una spiaggia cittadina, è una spiaggia metropolitana per cui c'è di tutto e questo amalgamarsi delle persone fa bene a tutti quanti. La gente si lamenta per quanto riguarda i bagni, per quanto riguarda la pulizia e soprattutto. I servizi li vedo bene pure, non tanto stanno bene, ci stiamo bene. Farei un'opera di pulizia estrema e certosina sia delle aiuole, sia del bagnasciuga, sia della spiaggia, soprattutto dopo le mareggiate. La maggiore criticità riscontrata è l'assenza dello storico bar, posto sotto sequestro e chiuso ormai da tempo, che è diventato preda del degrado. La mancanza del bar si sente sì, perché il turista o anche il barese stesso una bibita o una cosa l'avrebbe apprezzata sulla spiaggia. Sono anni ormai che non viene risolto e quindi qua tutti quanti quando devono prendere un bicchier d'acqua devono andare di fronte al bar che sta di fronte e non è possibile. Sarebbe piacevole poter almeno avere un caffè o una bottiglia d'acqua fresca vicino alla spiaggia, perché altrimenti si è costretti ad attraversare la strada e andare al primo bar oltre la strada. A tal proposito, l'amministrazione comunale ha pubblicato un bando per posizionare due food truck. Sono arrivate due domande già valutate dalla Commissione su cui si stanno effettuando le verifiche amministrative e entro fine giugno i due chioschi dovrebbero essere posizionati. Anche il coordinamento delle associazioni di pane e pomodoro si dice a disposizione per migliorare la fruibilità della spiaggia. I volontari sono pronti a gestire anche un infopoint per i turisti. Ed è stato inaugurato nell'aeroporto di Bari il nuovo Duty Free targato Aine Manco Rosso Internazionale nel mercato al dettaglio con spazi dedicati alle eccellenze enogastronomiche pugliesi. Ce ne parla Alessandra Bucci. 600 metri quadri di spazi espositivi è una grande vetrina per le eccellenze gastronomiche pugliesi. E' inaugurato questa mattina il nuovo Duty Free nell'aeroporto di Bari targato Aine Manco Rosso Internazionale del mercato al dettaglio che conta presenza nei più importanti scali di oltre 28 paesi. La forza di tutte le produzioni pugliesi grazie ad Aine Manco sarà non solo in questo aeroporto ma anche negli altri aeroporti. Presto anche Brindisi avrà una roba di questo tipo e ne siamo onorati perché essere scelti è certamente un bollino di qualità e poi dico la verità, i cavi ancillari sono fondamentali per i nostri aeroporti e tenderanno a far raggiungere sempre nuove rotte. Quindi quello che viene garantito attraverso le pigioni poi lo reinvestiamo sulle rotte e sulla formazione del personale. La grande area più ampia e rinnovata diventa anche un segnale della forte espansione che lo scalo sta registrando. Parallelamente all'aumento del traffico passeggeri dunque si elevano anche standard e qualità dei servizi in una stagione peraltro che si pronuncia già col segno più. Questo store ci permetterà di creare un gancio con le mete di partenza e di portare un pezzo di Puglia a casa. I dati anche del 2023 ci dimostrano che le presenze di stranieri sul nostro territorio sono ormai importantissime. Lo dimostrano anche gli ultimi dati di maggio, non ancora ufficiali, ma che evidenziano un trend che già dall'anno scorso ci fa registrare performance significative. Continueremo a incrementarle anche perché nelle prossime settimane lanceremo un mediaplano internazionale che guarda nuovi mercati, penso non soltanto agli States ma anche al Canada, al Brasile, all'Arabia. Il Comune di Mola cerca alloggi e immobili per contrastare l'emergenza abitativa. Ce ne parla Francesco Russo. Scade il prossimo 22 giugno il termine per aderire all'avviso pubblico del Comune di Mola ed essere inseriti nell'elenco dei soggetti privati, associazioni operatori del terzo settore disponibili ad offrire i propri alloggi da destinare al settore, servizi sociali per esigenze abitative e anche emergenziali alla luce di un'urgenza non più latente. Due le categorie di immobili richiesti, gli appartamenti privati da allocare con contratti transitori o a canone concordato e gli immobili da destinare a progetti di housing sociale. In cambio l'amministrazione comunale si impegna a rilasciare ai proprietari degli immobili un'apposita dichiarazione circa il corretto andamento del progetto individualizzato, un fondo di garanzia in relazione ad eventuali morosità e un contributo economico, una tantum in forma di agevolazione sulle imposte comunali e nazionali. Con questa misura, ha commentato il sindaco di Molla Giuseppe Colonna, si sostengono le fasce meno abbienti con un'azione concreta e si offre ai proprietari opportunità di locazione garantite e sicure. Andiamo adesso a Trani dove Matteo Bassetti, premiato per il suo libro Sui microbi, ha dichiarato ai nostri microfoni. Tutti mi davano per interessato alla politica ma io, come avevo detto dal primo giorno, voglio fare il medico. L'ho intervistato per noi Massimo Pillera. L'anno scorso io le chiesi perché uno doveva leggere il suo libro, ma adesso, dopo la fine dell'emergenza, secondo me è più importante. Molto più importante adesso che l'anno scorso perché il Covid non è stato altro che un acceleratore di idee, cioè ci ha fatto fare in tre anni quello che normalmente un medico, un ricercatore fa in 20-30 anni, cioè ha accelerato le conoscenze su un virus solo. Però i microbi sono tantissimi, sono batteri, sono virus, sono funghi, sono protozoi. Quindi ragione di più per imparare a conoscerlo questo mondo perché è un mondo molto affascinante che se lo conosciamo un po' di più probabilmente lo sappiamo affrontare anche un po' meglio. Io credo che buona parte delle conseguenze che il Covid ci ha lasciato siano state anche legate a che è arrivato in un mondo profondamente ignorante dal punto di vista della microbiologia, della virologia, dell'infettivologia. Quindi mi auguro che questo libro serva anche soltanto a aumentare un pochino la conoscenza da parte della gente di questo mondo che posso dire è veramente un mondo molto complesso, ma che se noi conosciamo un po' meglio forse riusciamo anche a governarlo un po' di più. Senta, è più rilassato adesso, non ci sono tutti questi collegamenti Skype, media, insomma è un po' più rilassato, la vedo rilassato rispetto all'anno scorso. Assolutamente, devo dire che è passato un momento, io e tutti noi medici veramente impegnativo, io in particolare ho avuto molti luci su di me che ovviamente non sono semplici, io oggi sono molto rilassato, continuo a fare quello che ho sempre fatto anche quando facevo i collegamenti Skype, cioè fare il dottore. Molti mi avevano dato politico, mi avevano dato per carriere di chissà quale tipo, alla fine io come ho detto dal primo giorno continuo a fare quello che amo fare che è fare il medico. Ci spostiamo a Lecce dove viene ampliata l'area pedonale di via 25 Luglio, un progetto che cambierà il volto del centro del capoluogo barocco. La Giunta Comunale del Comune di Lecce ha approvato il progetto di riqualificazione ambientale, valorizzazione e fruizione delle aree contigue del Castello Carlo V, che prevede la pedonalizzazione di via 25 Luglio tra Piazza Santo Ronso e il Castello Carlo V. Il progetto è stato finanziato con 3.690.000 euro. L'intera area dell'intervento, circa 7.700 metri quadri di strade, oggi aperta al traffico veicolare, sarà resa area pedonale, dotata di una nuova pavimentazione, di un nuovo verde a redi urbani, nuova illuminazione e dotata di servizi di mobilità sostenibile. La pedonalizzazione punta a conferire maggiore attrattività alle attività commerciali presenti sul primo tratto di via 25 Luglio e a creare davanti all'ingresso principale del teatro Politeama, un ampio foyer all'aperto. Il progetto pensato e voluto dall'amministrazione comunale ha come obiettivo di dare valore al Castello Carlo V e a valorizzare le piazzette attorno come Teatro Apollo, Piazza Libertini e via Trinchese. Sarà un grande cambiamento atteso da molti anni, dichiara il sindaco Carlo Salvemini, che modificherà la percezione delle aree tra il centro storico e il centro commerciale, oggi luoghi di transito, domani anche luoghi di socialità, di sosta, di iniziative, spazi pubblici destinati ad elevare la qualità urbana e di conseguenza la qualità della vita dei residenti, di chi lavora o di chi lo visita. Medimex 2023 Taranto non è più soltanto la città dell'ecomostro, è diventata la città della musica, di servizio di Angelo Ingenito. Taranto non è più soltanto la città dell'ecomostro, è diventata la città della musica. La Taranto che si sta facendo al futuro sta prendendo le distanze dalla Taranto della monocultura dell'acciaio e recuperando in serenità ed autostima identificandosi in Medimex. Quest'anno è stato il primo vero e proprio festival post-pandemico. Tutti gli eventi hanno registrato il sold out dai concerti agli showcase. Medimex 2023 è stato un contenitore ricco di appuntamenti dove gli appassionati di musica di tutte le età e generi hanno potuto trovare la loro dimensione e mai come quest'anno l'incontro generazionale è avvenuto al concerto di Idiodato, aperto da Echo and the Bunnymen, il gruppo musicale britannico post-punk, formatosi a Liverpool nel 1978 e che ha inciso album come Heaven Up Here, Pork Pine ed Ocean Rain. Ma Medimex 2023 anche appuntamenti di conversazione dove sul palco del Teatro Fusco Gino Castaldo ed Ernesto Assante hanno raccontato agli spettatori storie di artisti senza tempo come Lucio Battisti e star internazionali come Aretha Franklin e Beyoncé. Tornando ai concerti, sabato la rotonda del lungomare sembrava dovesse venire giù, tanto è stato l'entusiasmo che ha generato la bellissima Scan, la voce della band britannica a Nancy. Allorquando ha incominciato a stracciarsi le vesti donandosi al pubblico con tutta la sua carica e calandosi nella plateia in fibrillazione. Scan di una bellezza travolgente che incarna l'antieroe del modello femminile patinato, lontano anni luce dallo stereotipo dell'artista che passa più tempo in camerino che sul palco scenico. A chiudere il Medimax 2023 il concerto di domenica che ha visto sul palco Tom Morello e Ed Kalt. Da oggi si incomincia a programmare l'edizione 2024 per una Taranto che si riconosce sempre più lontana dal grigio dell'acciaio ma sempre più vicino ai colori dell'arcobaleno disegnati in musica da sole sette monti. E per questa edizione del telegiornale è tutto, grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata. Il meteo è offerto da Oropan Ben trovati in aggiornamento con le previsioni per la giornata di martedì quando l'anticiclone interesserà tutto il Mediterraneo centrale e da segnalare anche l'arrivo di aria molto calda dall'entroterra sariano verso le nostre regioni. Entro giovedì punte di 37 gradi sull'Italia. Andiamo al dettaglio, possiamo notare una giornata di stabilità con assenza di pioggia anche se in serata qualche temporale si formerà sulle Alpi. Andiamo al dettaglio quindi più focalizzato sull'Italia il tempo soleggiato sul nostro paese già ai primi 35 gradi sulla Toscana e sul Lazio. Dettagli maggiori e approfondimenti scaricando l'app di Trabi Meteo visitando gli articoli sul nostro sito web.